Sabato 23 marzo alle ore 17 presso la sala conferenza di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate si terrà una tavola rotonda dal titolo Prevenzione, cosa fare? Dalle parole ai fatti, organizzata dal gruppo di lavoro teaming up della sezione FIDAPA di Castellabate. All'interessante incontro curato dalla referente del gruppo nonché Roberta Piccirillo saranno presenti illustri personalità del campo medico provenienti da tutto il territorio occidentano e i direttori sanitari dei distretti, il dottor Francesco Lombardo responsabile del distretto sanitario numero 70 Ballo Agropoli che sottolineerà proprio l'importanza dell'organizzazione distrettuale nella prevenzione oncologica e il dottor Claudio Mondelli direttore responsabile del distretto sanitario 72 Sala Consilina che parlerà dell'importanza degli screening. Per l'occasione la facciata della suggestiva dimora ottocentesca verrà illuminata di rosa, i saluti istituzionali sono affidati al presidente della FIDAPA di Castellabate, Brasilina Guariglia, al sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli e al dottor Tommaso Pellegrino nella doppia veste di presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano Ialburni e di medico oncologo. Questo evento nasce da un nostro gruppo di lavoro che in concomitanza con le altre sezioni FIDAPA e di tutta Italia ha voluto fornire un contributo concreto nell'ambito medico e della prevenzione, spiega il presidente della sezione di Castellabate, Brasilina Guariglia, in merito all'iniziativa e aggiunge attraverso questo incontro si vuole sottolineare ancora una volta l'importanza degli screening perché, richiamando un vecchio slogan sempre molto attuale, prevenire è meglio che curare.